Sono Luigi Lopez, un autore e compositore di canzoni anche fortunate. Sono completamente conquistato da questa iniziativa dell'Unicef, denominata Vogliamo Zero, contro la mortalità infantile. È un'iniziativa lodevolissima che condivido, che sarà valorizzata anche attraverso una manifestazione che si chiama Piccole Stelle Cantano. Ha a che fare con la musica, quindi, in qualche modo. È una cosa che mi trovo completamente d'accordo. E penso che attraverso la musica, attraverso le canzoni, questo strumento così semplice, tutto sommato, si possano trasmettere messaggi importanti che vengono digeriti, acquisiti, metabolizzati dalle persone di tutto il mondo proprio grazie al fatto che la musica non ha un linguaggio territoriale. Si esprime attraverso le note e le note sono anche, se vogliamo, il linguaggio dell'anima. E questo rende molto più semplice l'affratellamento e l'unione per iniziative lodevoli come queste.